Sì, abbiamo preparato come ne abbiamo preparato tante altre, questa sicuramente ci è riuscita bene, avevamo un numero limitato di giocatori, però ci siamo comportati molto molto bene, sono molto contento perché abbiamo giocato a calcio, anche con la squadra che ci ha permesso di giocare a calcio, quindi è una partita corretta e questo mi fa piacere perché quando veniamo a fare questi tornei la cosa importante è divertirci e giocare sempre con squadre soprattutto corrette.